ciao ragazzi io sono roberto quello che state guardando in questo momento sono i nostri cavalli che stanno facendo ginnastica sì perché i cavalli hanno bisogno di allenarsi tutti i giorni fanno diversi cambiamenti vanno al passo vanno al trotto e vanno al galoppo bene adesso godiamoci questo piccolo esercizio e vi saluto ciao ragazzi ciao 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 ciao